allora 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 sì facciamo così ragazze tocca a lui però facciamo salire l'attesa dai Paolo ci siamo ci siamo mi dicono che ci siamo e io devo dire che sono molto contento perché negli ultimi anni Pablo è diventato veramente un amico di questa terra cioè della Sicilia ma direi anche e soprattutto di questa trasmissione è anche un mio amico personale per cui lo ringrazio davvero di cuore perché è venuto appositamente per insieme prima di iniziare il tour estivo e allora la prima canzone che ascolteremo si intitola era stupendo Paolo Meneguzzi c'è una parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'ha il dolore la povertà mi rivedo bambino mio che correvo nel blu era stupendo volare via sfidare il vento la fantasia la tua mano e la mia nella stessa poesia era stupendo vediamo le mani verso il cielo vediamo le mani verso il cielo ma una notte vedrai vediamo le mani verso il cielo dal destino uscirò giuro se la vita ci aspetterà torneremo laggiù sarà stupendo volare via sfidare ancora la fantasia e poi la tua mano e la mia nella stessa poesia era stupendo era stupendo era stupendo perché non c'è pace finché tutti pensano a sé era stupendo volare via volare via sfidare il vento la fantasia la tua mano e la mia nella stessa poesia era stupendo era stupendo era stupendo era stupendo era stupendo sì esatto no è troppo bello essere qua infatti siamo cioè sono veramente felice perché sono qua cinque giorni esatto io lo dico per chi volesse cercarlo in questi giorni lui resta qui oggi domani mercoledì giovedì e venerdì perché venerdì sera saremo insieme a Bronte se non sbaglio il giorno di Siracusa insomma quindi andatelo a cercare come si dice qua Shade Shade perché sta cinque giorni che cosa pensi di fare in questi cinque giorni ragazzo mio andrò sicuramente a divertirmi andrò un po' alla playa ah bene a prendere il sole esatto io sono sicuro che domani comincerà la caccia al bagnante alla playa arriveranno con i pedalò con le barche vabbè abbiamo dato qualche indicazione per questa ipotetica caccia al tesoro il tesoro è lui no sicuramente no il tesoro sono tutte loro guarda tutti loro guarda che c'è io sono veramente contento sai perché perché dall'altra parte sul Rai 1 purtroppo sta andando malissimo perché l'Italia sta perdendo 2 a 0 un disastro però c'è l'Italia c'è la nazionale dobbiamo crederci tu sei venuto attrezzato con la maglietta dell'Italia quindi da tifoso azzurro ecco però qui c'è scritto Pablo numero 30 vabbè lui peraltro gioca bene al calcio sono sicuro che se scendesse in campo lui forse qualche gollettino lo faremmo vabbè allora Pablo ci fermiamo qui perché poi dopo a fine partita noi dobbiamo fare altri tre brani vogliamo dare già la scaletta che cosa facciamo? musica sicuramente musica sì facciamo poi poi facciamo vero falso vero falso sì facciamo un po' di casino sì va bene poi vai dove ti pare poi facciamo grande va bene allora se siete d'accordo io lo saluto per adesso noi ci fermiamo e poi dopo è tutto vostro allo Mene Guzzi grazie grazie Fabio grazie grazie a tutti